Per la sesta giornata di eccellenza al San Marco di Pescara il Delfino Flacco Porto ospita il Lanciano che torna in campo dopo quattro turni per i noti problemi Covid in squadra. Bonati che per l'occasione non cambia molto rispetto alla gara di mercoledì con l'Angolana planamente a sostituire Bruno. Lanciano con il 4-4-1-1 con Lombardi a sostegno di Surugiu. Dirige Bellò di Castelfranco Veneto nel primo tempo succede davvero poco al ventesimo Falco ci prova da fuori Rossetti si rifugia in corner precisamente 20 minuti dopo occasione chiave Rossetti esce dai pali per anticipare un giocatore portuale inizialmente stoppa il pallone di coscia per poi toccarla con una mano il direttore di gara non esita e caccia il cartellino rosso per l'ex di turno. Lanciano dunque in 10 del 40esimo e calcio di punizione per il Delfino da ottima posizione va Marzucco facile per il neo entrato Scutti. Al 45esimo cross di Tinemori dalla destra al centro per Petre che in girata non riesce a trovare la porta poi è la volta di Silvestri che in rovesciata trova la risposta di Scutti. Scutti che sarà però protagonista in negativo nella ripresa intanto al dodicesimo della seconda frazione Giannini va di testa pallone rinviato sulla linea mentre due minuti più tardi pasticcio di Scutti che sbaglia il rinvio. Pallone per Petre che non almanacca e si coordina magicamente dai 35 metri e con un tiro chirurgico fa 1 a 0 e mette in discesa il match per i portuali. Uomini di Bonati che cercano di chiuderla Silvestri dentro per Gobbo tocco sotto delicato che viene però parato dall'estremo ospite. Al 69esimo ancora il numero 10 Angolo che trova il colpo di testa di Lupo che da sottomisura trova la risposta di Scutti poi è Falco a due passi da sparare alle stelle. Numero 11 che sembra meditabondo ma in realtà ha già l'occasione per farsi perdonare al 71esimo e con un tiro chirurgico dai 20 metri fa il 2 a 0. Delfino che mette dunque in cassaforte il risultato esordio anche per il classe 2004 Castellucci che al 46esimo batte un corner preciso per Tine Mori che di testa iscrive il definitivo 3 a 0. Termina dunque così Delfino che torna alla vittoria dopo il KO con l'angolana. Doccia gelata, una nuova invece per il Lanciano.